Oggi abbiamo presentato il nuovo sito istituzionale in una veste completamente nuova e rinnovata. Era necessario un adeguamento del sito istituzionale a quelle che sono le normative agite sia per quanto riguarda la funzionalità ma anche per quanto riguarda il layout delle home page e dei servizi stesso. È stato un lavoro duro, importante in questi mesi che ha visto coinvolta tutta la struttura dell'ente supervisionata dal nostro CED oltre alla ditta che si è occupata di organizzare il tutto. Ci sono tantissimi servizi che nel corso dei mesi abbiamo reso fruibili direttamente online quindi basta pensare al rilascio dei certificati anagrafici con l'accesso del comune di Teramo in ANPR quindi con SPID abbiamo la possibilità di rilasciare direttamente i certificati anagrafici online oppure le richieste di accesso alla ZTL oppure basti pensare anche al rilascio dei certificati per i disabili quindi andiamo ad implementare tutti quei servizi che possiamo erogare anche direttamente online ne parlo di anche perché ovviamente è un servizio che si va ad aggiungere al normale servizio di sportello e per rendere il rapporto con il cittadino sempre più smart e sempre più dinamico. Grazie 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 Grazie